Salve ragazzi, come state? Io sono Briller, sono Brian, sono un ragazzo del Colorado, quindi io sono americano e essendo un americano volevo condividere la mia preziosa lingua, l'inglese americano e volevo darvi i miei consigli più importanti per la pronuncia americana Allora, quindi andiamo al primo tip La T, H in inglese, che suono spaventoso, mamma mia, come cavolo faremo a pronunciare la T, H in inglese? Beh, effettivamente è un suono molto facile se lo sai pronunciare e devi solo saper soffiare così e poi metti la lingua tra i denti così Se sai mettere la lingua tra i denti e sai soffiare sicuramente sai fare la T, H perché devi solo fare queste due cose contemporaneamente così Ragazzi, in inglese la parola con si dice with La parola il in inglese si dice the Questa volta c'è vibrazione nella gola, quindi the Allora, un altro suono pauroso, la R in inglese, ovvero la R Questa lettera R in inglese è diversa nell'America rispetto al UK perché lì lo dicono così, tipo la parola acqua direbbero water ed è molto facile Invece in americano abbiamo water, che secondo me è una pronuncia più bella pure Però dobbiamo imparare allora la lettera R Per fare questo suono bisogna piegare la lingua così Se ho la bocca così, la mia lingua sarà così E la lingua non toccherà il tetto della bocca Però è piegato, tipo retroflessivo penso si chiami Quindi metti la lingua così e poi fai rrrrrr Dipende tutto dalla forma della lingua Tipo la parola there Ho fatto sia la TH con vibrazione più la R Quindi tipo lì, there Quindi adesso potete dire perfettamente la parola there in inglese Allora, adesso dovremmo parlare un po' delle vocali sempre spaventose in inglese Per esempio, c'è una differenza nella parola lenzuola e merda in inglese Ovvero sheet e shit In italiano non avete I Questa vocale è simile a I L'unica differenza è che la I americana è più bassa La lingua è più bassa La lingua è anche meno tesa Tipo prova a rilassare la lingua così che non è duro e tesa E abbassa la un po' E uscirà la I Un'altra differenza sottile tra due vocali in inglese è la differenza tra E e E Penso che siate più familiari con E in italiano esiste Mentre E sicuramente non esiste in italiano Prendiamo le parole bad e bad ovvero cattivo e letto Bad, bad Questa vocale è tipo la vocale più bassa di tutte le vocali inglesi La lingua è molto bassa e forse le labbra sono un po' rotonde Però la lingua è molto bassa ed è molto rilassata tipo E Mentre E siete familiari con E quindi a parte solo pronunciarvelo e dirvi di praticare non So proprio cosa farei quindi facciamo pratica Ten ten abbronzato dieci ten 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 uomo uomini man man è difficile ragazzi mi dispiace Allora per il quinto tip torniamo un po' a quella R di cui parlavamo prima perché c'è una cosa importante che dovreste sapere Allora quando vedete la R in inglese e se c'è una vocale prima spesso quella vocale è come se non ci fosse Ad esempio nella parola parola in inglese word Io vado direttamente dalla W alla R anche se si scrive W o R D è come se la O non ci fosse Anche la parola girare in inglese turn c'è la U però non direi tipo turn Direi solo turn o tipo uccello bird c'è una I in quella parola bird ovviamente non si sente una I Spesso in inglese quando c'è la R dopo una vocale la vocale prima è come se non ci fosse bird Allora sesto torniamo mi dispiace alle vocali la vocale più comune in tutto inglese è lo schwa Lo chiamano la vocale pigra perché sinceramente la lingua non fa niente Questo è il suono dello schwa Tipo come se stessi facciano tipo Fammi pensare tipo Prendiamo la parola Elizabeth ad esempio La il nome Elizabeth ha solo una vocale che non è lo schwa anche se non è scritto così A schwa Le la vocale e di cui avevamo parlato Z schwa Bath schwa Elizabeth Tantissime parole sono così anche se sono scritte con tipo e a o u C'è non importa perché siamo pigri in inglese e diciamo solo la vocale del sillabe che ha lo stress Quindi nella parola Elizabeth Liz ha lo stress Tutti gli altri sillabi non devono avere la vocale vera Possono essere la vocale pigra lo schwa E-li-za-beth Cosa così Allora per finire vi do un consiglio molto utile specificamente per voi italiani So che quando c'è uno stop tipo un plosivo alla fine di parole E per chi non lo sa uno stop è tipo t, d, b, p, k, g, n Questi suoni sono stops Allora se la parola finisce con uno stop bisogna non rilasciare il suono dello stop Fammi spiegare Ad esempio la parola stop io posso dire stop Tipo un italiano direbbe stop Notate la fine di quella parola stop Io posso solo dire però stop Quando dico la P è come se non lo dico stop Hit Kid Cioè non dico hit Kid Stop Run Dico solo hit Kid Stop Run Non rilasciate lo stop Tienitelo in bocca Non devi nemmeno aprire di nuovo la bocca tipo stop Cioè lascio la lingua dove è finita Ecco Quindi ragazzi spero vi sia piaciuto questo video E se stai guardando questo video nel giorno che esce Più tardi alle 6 lunedì avrò un live Q&A Potete farmi più domande su queste cose o su qualsiasi cosa di me o dell'Italia o dell'America o qualsiasi cosa Spero che verrete a quel live E per finire questo video devo semplicemente ringraziare l'azienda che mi ha mandato queste scarpe Sono molto fighe mi piacciono un sacco Grazie a mille per avermi le mandate Sono comode Penso siano belle Quindi se volete trovare anche tu queste scarpe fighe Lascerò il link sotto nella descrizione Sono molto fighe Grazie a loro per avermi le mandate Ragazzi spero vi sia piaciuto il video Ci vedremo alla prossima Peace Ciao 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 Ciao